Indossano queste tute ancora con orgoglio, nonostante ogni mattina entrare in fabbrica rappresenti un'incognita. C'è un'emergenza drammatica all'interno dello stabilimento. La questione impiantistica e la tenuta, lo stato di salute stesso degli impianti, ormai è arrivato a stati inaccettabili. Tant'è vero che chiaramente nella situazione in cui siamo dobbiamo sperare ogni mattina passando dalla chiesa e accendendo un cerro affinché possiamo ritirarci a casa. Perché questa è la condizione alla quale siamo arrivati. Pietro, come Paolo, Biagio, Andrea, conosce bene l'incertezza. Il siderurgico su cui loro hanno costruito famiglie e vita da qualche anno è sinonimo di timori, paure decretate non solo dalle vicende giudiziarie ma anche e soprattutto da cambi di governo, commissari e proprietà che significano assenza di risorse, di lavoro, di dignità. L'assenza di una proprietà nell'Ilva l'abbiamo vissuta noi nell'area tubifici. Siamo fermi dal 2008 con l'area all'amminazione, siamo in casa di creazione, stiamo pagando per tutti. Poco importano le schermaglie politiche qui, vogliono soluzioni a problemi di cui non si sentono responsabili. Qui pretendono risposte capaci di tutelare loro il lavoro, l'ambiente e Taranto. Si aspetta qualcosa, qualcosa che ci salvi. Di trovare una soluzione alla fine per tutti noi, no? Perché dopo aver lavorato tanti anni qui dentro e poi buttati fuori così non è giusto proprio. Di quello che succede fra Di Maio e Calenda poco ci interessa. Noi vogliamo solamente le risposte. Vogliamo ritornare a una vita normale. Vogliamo che questa sia una fabbrica che produca senza ammazzare, senza uccidere, senza inquinare e senza far ammalare persone. Questo vogliamo a Taranto.